Oltre 125 milioni di euro per lo sviluppo economico, più di 38 milioni per il turismo e più di 8 milioni per la cultura. Sono in tutto 172 milioni e 209 mila 572 euro i fondi che l'assessorato regionale alle attività produttive, al turismo e ai beni e alle attività culturali e di spettacolo ha messo a bando negli ultimi 18 mesi di governo per sostenere imprese e lavoratori colpiti dalla crisi nel periodo dell'emergenza sanitaria. A renderlo noto è stato l'assessore regionale Daniele Damario, nel corso di una conferenza stampa convocata nella sede pescarese del Consiglio regionale insieme ad alcuni esponenti di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo. Oggi comunichiamo ciò che è stato messo in gamba dall'assessorato sviluppo economico, turismo e cultura, diciamo negli ultimi 18 mesi. Diciamo che abbiamo messo sul campo circa 172 milioni di euro a disposizione delle imprese e dei cittadini abruzzesi che sono ristori, sono contributi, parte in esecuzione di leggi regionali, parte in esecuzione di fondi statali che noi abbiamo messo a bando e abbiamo messo a disposizione delle imprese abruzzesi. Per quanto riguarda il quadro economico della regione Abruzzo dobbiamo dire che la regione Abruzzo oggi tiene botta, soprattutto con le grandi imprese. abbiamo notizie importanti anche per quanto riguarda l'automotive, soprattutto per quanto riguarda il gruppo Stellantis e quindi parliamo di Sevel. Quindi diciamo che nel complesso l'economia abruzzese tiene, soprattutto per quanto riguarda la grande industria. Abbiamo qualche piccolo problema per quanto riguarda le micro imprese e su questo sarà importante uno sforzo con la nuova programmazione 21-27 che mette sul piatto circa 380 milioni di euro per le imprese. Abbiamo qualche problema sui tempi di erogazione, però stiamo affinando le procedure, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione e ragioneria. Contiamo adesso di affinare queste tecniche in modo di, una volta, per erogare più velocemente questi contributi. In questi mesi di governo regionale Forza Italia ha dimostrato di aver saputo portare avanti con successo le piccole e grandi strategie di programmazione. Hanno aggiunto in conferenza il capogruppo regionale Mauro Febbo e il presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, lavorando in sinergia con i territori, la regione e il governo nazionale, anche per il tramite dei parlamentari eletti, come il senatore Nazario Pagano. Il governo ovviamente è disposto a venire incontro naturalmente alle varie esigenze. Certo è che non ci voleva questa crisi dovuta alla guerra russo-ucraina che ovviamente ha sconvolto completamente tutti gli schemi e le previsioni economiche precedenti. In particolare i costi dell'energia, del gas e del petrolio sono schizzati in su e questo ha completamente modificato una serie di progetti che erano stati fatti sull'economia del nostro paese, anche perché l'inflazione in questo modo è tornata a crescere. Però io credo che il governo agrari sia facendo bene e che ci sia la possibilità di venire incontro anche alle istanze dei lavoratori più fragili. Grazie a tutti.